Per la sfida di martedì alle 21 si rivedrà all'Allianz Stadium il fischietto che un anno fa diresse la gara sempre di Champions contro il Valencia la UEFA, ha reso note le designazioni per il prossimo turno di Champions. A dirigere Juventus-Bayern Leverkusen, in programma a Torino martedì 1 ottobre alle 21, sarà lo scozzese William, Collum, assistente con nazionali Francis Conor e David McGiacchie, quarto uomo Nicolas Solace e al bar gli inglesi Stuart Attuel e assistente Paul Tierney. L'ultima volta che ha arbitrato la Juve è stato il 27 novembre del 2018, all'Allianz Stadium contro il Valencia, gara finita 1-0 per i bianconeri, con Collum che estrasse ben otto cartellini gialli. Copyright riproduzione riservata Let's Block Ads Iscriviti al canale